Ormai sei diventato un campione mondiale di slalom, solo che questa volta ti infilo nella lavatrice a 60 gradi. E' inutile che tu ti atteggi a professore spiegandomi delle cose che non c'entrano esattamente una beata minchia col tuo commento iniziale che ho mostrato ieri. Te lo rimostro, così ti rendi conto del tuo livello, lo scienziato sei tu, non io. Guardalo bene il tuo commento, abbi un po' di coraggio. Leggi, leggi. E adesso ti mostro un documento ufficiale dell'ESA. Leggi anche quello, vediamo se vai contro l'ESA e vediamo chi è che ha detto una cazzata. Chissà chi è, vero i swing? Ora, i swing, vedi? Nella vita, nella vita, bisogna anche avere un po' di multà e dire ok ho sbagliato. Ma tu ti atteggi a scienziato, e questa è l'ennesima prova del tuo livello, dando degli ignoranti agli altri. Ricordati il commento di Umberto Eco, perché secondo me tu ci sei dentro fino al collo. Ma tutto però. Leggi, leggi. E' inutile che svii. Puoi sviare quanto non scappi. Il commento l'hai fatto. Ma tu sei lo scienziato. Non imparerei mai i swing, vero? I swing, perché dici cazzate dicendo che sei bannato? Non sei bannato. Vieni, la mia porta per te è aperta. Ah, forse non vieni perché c'è qualcuno... C'è qualcuno, chiaro? Ma come? Tu non hai paura di nessuno di noi terrapiattisti? Siamo tutti ignoranti, come hai detto tu. Che paura hai? Vieni che dialoghiamo. Vieni, vieni.